inoltre nell'apporto farà davanti da un'opera le attività questo è in barbara una classe giusta in basso dove volete essere per esempio io voglio essere un il guardiero io il guardiero sono un guardiero e questa è la prima fase, ma non è importante non è proprio di morire dove stiamo andando? come vedete mi piace ok ti danno una torcia qui ti danno una torcia o gli stai vicino e gli metti la torcia non puoi anche non farla non cambia un filo io sto qui ehm non tocca la prima parte è quando mi scelglierò i capelli e le cose la seconda parte è forse la frontiera no? non lo so no vabbè no fino a quando arrivo qui poi stoppo perchè non perchè non non posso vabbè o forse lo faccio in tira non vedete ragazzi non vedete che sono polli può dar so vedi che non c'erano queste cose però può darti anche che lo state vedendo tutto insieme non lo so vogliate che il mio tipo qua strauglia brutti non lo so non lo so non ci diverti ah qui c'è un baule provate questo 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 ma non lo so ma non lo so ma non lo so ma non lo so ok li sto pianto ma scusate un attimo volevo sapere quanto attacco c'ha ah cosa dovrebbe attacco cosa dovrebbe attacco che un po' deboluccio ma hai la prima spada ok andiamo a senza canzone eccoci qua ok qui ci dice la prima di aspettare che lui controlla e non c'è nessuno poi ci fa così coltigno della mano e noi ci possiamo avvicinare ok una volta che siamo qui si arriva l'imperatore siamo avanti ok qui muore l'imperatore si qui muore l'imperatore perchè è diverso vengono di qua l'imperatore sta qui voi vi bloccate quindi non provate a provarlo perchè vi bloccate è impossibile deve morire e da qui si apre la parete ok c'è un assassino e li ammazza c'è di lì ammazza l'ho ammazza l'ho ammazza solo all'imperatore se faremo una spiga che poi gli dicono ora sentitemi ragazzi io dico proprio qua nella mezzo dell'imperatore c'è io dico è proprio nella mezzo dell'imperatore mi piace questo che prima aspetta che l'amico sta gli ammazza qui vi da volete vedere vedete vi da ecco vedete si è perso vedete qui qua l'abbiamo perso ho perso le lame me l'ha dato me l'ha dato l'imperatore vabbè si li parlo devo portarlo agli occhi qui ti dicevi di portare passare le fogne ok questo è ancora più importante di quello di prima perchè dovete proprio uscire la classe qui in questo caso se sei a cera 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 e in questo caso voglio essere non tregone ma voglio essere un armato prima io avevo scelto manco da zero una guardiero combattimenti guerriero eccolo qua fatto era un guerriero ah no aspetta forza resistenza e e volontà ah mentre due qui scegliete armatura leggera armatura pesante che vuol dire che cosa volete essere specializzati io volevo scegliere armatura pesante e che però andate molto più lenti ah anna andate di arco poi contundente no un po' corto me contundente poi lama scelgo questo poi qui vi dovete scegliere quello che volete se non volete fare la classe personalizzata e scegliete l'altra commercio a me fa il massimo vado ok ok la classe personalizzata come eeeh ho fatto danno facciamo la classe personalizzata qua la faccio veloce faccio un massimo qui che dovete fare dovete passare al passaggio eeeh fino a qui non ce l'avano morto proprio non ce l'avano morto qui quasi tre della fogna però sono cavoli ok qui 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 è la parte pericolo di qui 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 è qui dato a destra e ora dato dritto dritto dovrete entrare nel tubo e quando avrete finito cliccate finirà finita di uscire le fogne oppure potete modificare ok ragazzi siamo usciti ora possiamo giocare tranquillamente e ok che vi dovevo dire l'ultima cosa prima di chiudere allora questo vino non so in fatta parte lo tagliato le parti cioè sì o forse senterà non lo so e inoltre le parti più brutte le taglierò penso penso che le parti brutte non le state vedete se non le avete visto vuol dire che non sbagliate e niente quindi questa è la prima avventura soprattutto vi farò vedere come entrare nelle varie giz ciao e al prossimo video atti walkthrough gameplay non so come si scriverà e vabbè ciao ciao